Gli altri sono semplici freestyler, noi siamo Dangerfarm, grazie a CISO Y! Mi permetti una cosa? La voce della Dangerfarm è la FELIX! Venti con il nostro nuovo collega, diciamo così. Signori e signore, un'unica cosa la voglio sentire da qui su, vi aspettiamo. Oggi, pomeriggio, quindi la mia non specifica molto. Vi aspettiamo, un'unica cosa, il nostro motto, lo voglio sentire da voi. Non mi fate fare brutta figura. Signori e signore, nel dubbio, accelera l'esercizio. Nel dubbio!